Lo hanno chiamato musica sull'acqua, i concerti infatti sono vista a lago, va avanti ancora per circa una settimana il festival che fa sede a Colico, sulla punta nord del lago di Como. Qui ecco i violinisti dell'orchestra giovanile esibirsi nel chiostro, oppure il violinista Sergei Krilov con il pianista Itamar Golan. Gran finale all'abbazia di Piona che si affaccia a strapiombo sull'acqua lungo il lato lecchese del lago di Como con un panorama mozzafiato. Grazie.